It's easy to leave me All along with the memory Of my legend and song Every day we have a warm up, a dance warm up Every day, and that normally is about half an hour Questo musical è una vera fatica ogni giorno abbiamo almeno mezz'ora di ballo di riscaldamento e io stesso devo fare ginnastica per mantenermi in forma Prima della tournée poi abbiamo 5-6 settimane di prove Questo è uno spettacolo che richiede molto sul piano fisico forse è lo show più faticoso di sempre però per me è un privilegio e una gioia farne parte quando va tutto bene è semplicemente perfetto Per me è una vera fatica Signore e signori Mi chiamo Chrissy Hammond e io recito la parte di Grisabella in uno spettacolo Siamo tutti molto eccitati di interpretare i gatti in Italia e noi speriamo che l'esperienza a voi piaccia tanto quanto piaccia a noi Vi prego di scusarmi del mio pessimo italiano ma come voi sapete è molto difficile insegnare nuovi trucchi a un vecchio gatto Grazie